Benvenuto in Joomla Power Pro, JPP. Sono veramente entusiasta di averti tra i nostri, di averti dall'altra parte. Perché questo video in macchina è in movimento? Perché Joomla Power Pro, un po' come il mondo di internet, un po' come la costruzione di siti web dinamici, è dinamico, quindi è in movimento, in costante movimento. Quindi non hai appena preso un corso statico, un corso registrato 4-5 anni fa e che sarà così per sempre. Come potrai notare man mano che andrai avanti in JPP, in Joomla Power Pro, ci saranno anche delle buche, come proprio adesso ci saranno degli imprevisti, ma andremo avanti, ti fornirò supporto io e gli altri amici del gruppo segreto su Facebook. Quindi se non hai ancora ricevuto l'invito, mandami un'email joomlapowerpro.com e sarai invitato. E inoltre vedrai che mano a mano, settimana dopo settimana, noterai anche degli aggiornamenti. Perché? Perché ci tengo a pubblicare degli aggiornamenti. Quello che io scopro in prima persona o quello che scoprono gli amici, in genere mi piace registrarlo e renderlo disponibile per tutti gli amici di JPP, di Joomla Power Pro. Anche per te che adesso sei all'interno dell'area privata. Quindi divertiti, inizi a costruire il tuo sito, inizi a pensare alla tua idea, guarda i video poco alla volta. I video non sono lunghi mezz'ora, due ore, quattro ore e spero non siano noiosi. I video sono pensati, questi video tutorial in alta qualità in HD, per non annoiarti e per trasmetterti un concetto, farti capire un concetto in pochi minuti, 5, 10, massimo 14, 15 minuti l'uno. Quindi se non sei stanco, video tutorial dopo video tutorial, clicca successivo in basso a destra e vai avanti, oppure aggiungi ai tuoi preferiti nella funzione che vedi nella tua colonna a destra e poi piano piano, dopo qualche ora, dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, continua e vai avanti. Non è una corsa contro il tempo, divertiti, divertiti in questo percorso nel costruire il tuo blog, il tuo sito internet personale. Joomla Power Pro passerai da principiante a esperto, se già sei esperto diventerai un pro, un professionista. Questo è il mio obiettivo personale e spero veramente con tutto il cuore di riuscirci e di trasmetterti tutta la conoscenza necessaria. Ti ringrazio di nuovo tantissimo per essere entrato dall'altra parte, come vedi ci sono un po' di buche nella strada, farà parte anche del nostro percorso insieme, l'importante è schivare le buche e andare avanti e costruire il tuo sito internet professionale o anche per i tuoi clienti, perché stai per imparare, per apprendere un mestiere, un mestiere molto richiesto. Ti mando un abbraccione, mi chiamo Leonardo, gestisco Joomla Power Pro e ci vediamo dall'altra parte, clicca successivo in basso a destra da questa parte e inizia col primo video. Ciao ciao!